Musica Benvenuti ad un nuovo appuntamento di Toscana Cine News. Qui al Cinema Odeon sta andando avanti la 50 giorni di cinema internazionale a Firenze con il festival Frans Odeon. Tanti gli ospiti di questo festival, tra cui una famosa attrice Sabina Semà, un'attrice che ha lavorato molto con Alain René, di cui infatti viene proiettato qui all'Odeon l'ultimo film presentato all'ultimo festival di Cannes, Vous n'avez pas encore rien vu. Abbiamo intervistato l'attrice in attesa anche di incontrare gli altri ospiti del festival, tra cui Jacques Lang, un famoso uomo di cultura, scrittore, ex ministro della cultura francese, che ha presentato qui a Firenze il suo libro su Michelangelo. Sentiamo cosa ha detto al nostro microfono Sabina Semà. Ispirato al mito di Orfeo Ridice, il film Vous n'avez encore rien vu, che ha inaugurato Frans Odeon il primo novembre alla presenza dell'ambasciatore francese in Italia Alain Leroy, è un continuo gioco di rimandi e rappresentazioni tra il teatro e il cinema, come solo il maestro René poteva riuscire a fare. L'attrice francese famosa per le sue interpretazioni di Una domenica in campagna, La vita è niente altro, Smokin' o Smokin' e Amori folli, solo per citarne alcuni, pur avendo una lunga carriera iniziata negli anni settanta e tanti premi vinti, ha portato all'Odeon di Firenze una freschezza d'animo e una curiosità quasi incredibili. Sono alla decima interpretazione con lui René, ha dichiarato l'attrice. Con lui mi sento come Alice nel Paese delle Meraviglie e mi faccio prendere per mano e portare nel suo mondo fantastico. Sì, questo titolo è un modo di ridere, è uno scherzo, vuole anche annunciare come al teatro quando il sipario sta per aprirsi, è un po' l'annuncio fatto allo spettatore, ma non conoscete ancora, forse conoscete i film passati di René, però è anche una forma di annuncio di qualcosa di diverso. Anna René è stato sempre in direzioni molto diverse, alcuni film sono più tragici, altri invece più divertenti e quindi l'idea è un po' di annunciare che ci si divertirà, che lo spettatore si divertirà. È anche un film d'amore, è un film molto intenso, è anche pieno di gravità. Ecco, è un film molto bello, sperimentale, che parla di vita, di morte. Per lei, che cosa è stato questo film? C'era prima di seguire Anna René? Era prima di tutto seguire nuovamente Anna René, con il quale ho fatto già più di dieci film, quindi in un certo modo essere nuovamente assunta da lui era una cosa molto bella. e poi assunta per esprimere dei sentimenti estremamente intensi legato all'amore, che cosa un'attrice si può sognare di meglio. In realtà quando ho giocato c'era una dichiarazione d'amore all'amore. Voilà, c'era questo che avevo a fare davanti alla camera. Quello che era il mio compito davanti alla cinepresa era di fare una dichiarazione d'amore all'amore. Questo era il mio compito. Quali sono i suoi progetti futuri? Non, perché veramente... Per ora non si può ancora parlare dei progetti futuri, a parte che sono di nuovo con Anna René, perché siamo veramente alla fase veramente iniziale. Si inizia appena appena a impostare tutti i dati per il film, è troppo nuovo per poterne parlare. Aspettate qualche mese e poi ne saprete di più. Questo nostro appuntamento con il cinema di qualità qui alla 50 giorni finisce qui. In attesa di farvi un resoconto sui prossimi festival e sui prossimi ospiti di France Audion. Arrivederci a tutti.